I italiani sono responsabili ma la strada è ancora lunga, così il Presidente del Consiglio conte sulla ripartenza. Ma lunga sembra essere anche la strada che porta al decreto economico che fu di aprile e ora di maggio un intervento poderoso, disse a suo tempo il Premier di 55 miliardi di euro. E questa sarebbe l'unica certezza al momento in quanto le divisioni profonde nella maggioranza ne complicano il cammino e ne dilatano i tempi. A metà settimana dovrebbe arrivare il via libera dal Governo salvo intese, tuttavia su alcune misure dai trasferimenti a fondo perduto alle imprese, allo sblocco dei circa 12 miliardi di debiti della pubblica amministrazione, il Governo sembra aver trovato una quadra. Resta invece il nodo reddito di emergenza, voluto fortemente dai 5 Stelle per completare, sommato a quello di cittadinanza, il disegno grillino del reddito universale. Visione contestata da una parte del PD e dall'Italia viva di Renzi, che invece vorrebbero dare sostanza agli aiuti alle imprese, come chiesto anche da Confindustria targata Bonomi. Nella partita entra in gioco anche l'Europa, Bruxelles guarda con sospetto a misure destinate all'assistenza e preferirebbe impiegare i fondi, che ancora non ci sono, per sostenere l'attività produttiva del Paese.